Il centro-destra ha vinto le elezioni politiche del 25 settembre. Anche in Toscana i dati definitivi hanno decretato la vittoria della coalizione di centro-destra. Al Senato il centro-destra ha ottenuto in regione il 38,5%, a seguire il centro-sinistra col 33,8%, il Movimento 5 Stelle con l'11,3% e il Terzo Polo con il 9,3%. Negli uni nominali il centro-destra vince ad Arezzo, a Livorno e a Prato, mentre il centro-sinistra si aggiudica il Collegio di Firenze. Per la Camera, nella circoscrizione toscana, il centro-destra ha vinto con il 38,6%, seguito dalla coalizione di centro-sinistra che ha ottenuto il 34,6%, il Movimento 5 Stelle che ha raggiunto l'11,1% e il Terzo Polo con il 9,4%. Il centro-destra si è aggiudicato sette dei nove collegi uni nominali, tra cui quello di massa con la consigliera regionale leghista Elisa Montemagni, mentre il centro-sinistra ha ottenuto due seggi. I consiglieri regionali della Toscana hanno commentato così i risultati elettorali. In questi anni ci sono state tante, troppe contraddizioni. Noi contemporaneamente non possiamo essere per l'agenda Draghi e Contiani, non possiamo essere per la transizione ecologica e allo stesso tempo riaprire nuove discariche. Noi non possiamo essere un po' per il reddito di cittadinanza, un po' contro il reddito di cittadinanza. Noi non si può essere il partito che fonda il suo impegno sul tema dei diritti civili importanti, e questo un po' mi preoccupa per il nostro Paese nei prossimi mesi, nei prossimi anni, e allo stesso tempo non andare fino in fondo, non avere coraggio. Io penso che sia arrivato il tempo di una nuova classe dirigente, non è solo il problema di chi fa il segretario delle alleanze, ma qui c'è necessità di che i migliori nostri amministratori, chi lavora ogni giorno sul territorio, che ha fatto tanto, ha portato risultati importanti, perché è davvero surreale sapere che alle amministrative si vince, alle elezioni politiche si perde, evidentemente c'è qualcosa, quindi questi buoni amministratori dobbiamo chiedergli un impegno anche nel partito, non solo per le proprie comunità, con la capacità di saper stare sempre all'altezza degli occhi delle persone, come avviene nel loro territorio. Noi dobbiamo parlare di diritti sociali, della necessità di dare risposte a chi soffre, alle ansie, alle sofferenze delle persone, alle loro paure che con il caro dell'energia stanno diventando ancora più forti, che la pandemia ha esasperato, insomma un modello completamente nuovo dove a guidare il partito ci vadano donne e uomini che abbiano coraggio, abbiano un'idea nuova di paese in un mondo che sta cambiando e che non siano lì solamente per garantire sostanzialmente se stessi. Essersi presentati nei collegi uninominali divisi è chiaro che ha fatto la differenza, basta andare a vedere i risultati. Io ho visto nel mio collegio uninominale, bastava essere alleati con una delle due forze che comunque si dichiarano far parte del campo progressista, quindi o i 5 Stelle o il cosiddetto terzo polo e il risultato sarebbe stato diverso. Credo poi che esista un tema, che è il tema congressuale per quanto riguarda il Partito Democratico, della riacquisizione di una sua visibilità, di una sua identità, di un suo profilo che sia rivolto maggiormente alle fasce della popolazione che più soffrono, che più vivono il disagio. Quindi i temi del lavoro, i temi del sociale, i temi dei diritti civili sono i temi di cui con nettezza e con chiarezza il Partito Democratico si deve riappropriare. Oggi Fratelli d'Italia è il primo partito al Senato in Toscana e quindi il Presidente Gianni ovviamente ne dovrà prendere atto. Detto questo auspico nell'interesse della regione e di tutte le province toscane che vi sia una collaborazione tra il Governatore Gianni e il Governo. Su questo non ho dubbi perché il Governatore da questo punto di vista non credo abbia preclusioni ideologiche a confrontarsi col Governo. I risultati arriveranno in Toscana se la Toscana si confronterà ovviamente col Governo. E qualora, ma non credo, ripeto, non credo sia un atteggiamento che appartiene al Governatore Gianni, qualora si volesse far finta che il Governo nazionale non esiste e si continua ad andare avanti con la testa bassa perché la Toscana è l'ultima delle roccaforti dove dentro ci stanno asserragliati quelli della riserva indiana, penso che si farebbe soltanto un danno a questa regione. Io credo che sia qualche anno, parliamo di vento che cambia quando abbiamo iniziato a vincere i capoluoghi, adesso noi governiamo 7 su 10 in Toscana e questo risultato ci fa ben sperare per le elezioni regionali del 2025 perché evidentemente come succede in tante realtà o è successo in altre regioni, le persone cominciano a sentire la voglia dell'alternanza politica e di provare anche qualcos'altro, di provare anche un governo che possa essere di centro-destra, che possa essere diverso da quello che ha sempre visto la Toscana in questi anni e magari nel 2025 ci sarà una svolta positiva anche in questo senso. Noi ci crediamo e lavoriamo anche per questo perché il programma che abbiamo portato nel 2020 noi, ma anche quello che ha portato Gianni, in realtà è lettera straccia. Il nostro perché ovviamente la maggioranza non ci porta a riflessioni che possano essere utili per il territorio perché tutte le cose che presentiamo ce le bocciano sistematicamente e il loro perché la loro maggioranza frantumata, come vediamo, non li porta a portare a casa niente. Si pensi solo che in questa legislatura ad ora non abbiamo ancora visto una riforma. Sì, in Toscana è un dato straordinario, è essere al 10%, denota che questa è una regione che chiede riformismo, che chiede scelte, dove un'area liberal democratica e popolare come la nostra sta trovando un grande riscontro. Contestualmente c'è il crollo del Partito Democratico e questo denota che vanno fatte delle scelte, bisogna attuare una politica di governo in grado di assumersi responsabilità, attuare i piani di programmazione, fare scelte infrastrutturali, stare accanto all'impresa e al lavoro che oggi parlano la stessa lingua e questo denota che abbiamo il diritto e il dovere di cambiare passo per esempio per quanto riguarda la gestione della sanità che non sta dando le risposte dovute agli operatori e né ai cittadini. Nel contempo a titolo personale è soddisfazione per aver raccolto 22.000 voti, partivo da una dote cosiddetta di 10.700, siamo arrivati nel mio collegio a 22.000 voti, più del doppio soltanto nel corso di due anni, io credo che sia stato un lavoro straordinario che denotano l'attaccamento al territorio, a quella Toscana del Sud, Siena Grosseto che comunque ha bisogno di risposte importanti, penso infrastrutturali come la Tirrenica, penso infrastrutturali come i collegamenti ferroviari e abbiamo bisogno di non lasciare una Toscana a doppia velocità, quindi dobbiamo tenere insieme nel contempo una regione che si attacca alle regioni del nord rispetto allo sviluppo economico, rispetto alla ripresa e soprattutto una regione in grado di avere una stricella spostata sull'asse di un riformismo che noi possiamo garantire essendo forza di governo e su questa sfida sfideremo anche i nostri alleati nel governo toscano. Questa è la prova che il Movimento 5 Stelle gode di ottima salute e la guida del Presidente Conte è stata fondamentale per riprendere le fila di un'azione che abbiamo intenzione di rinforzare sui territori, che è quella dell'ascolto, della condivisione dei temi più critici e della risoluzione dei problemi a livello nazionale. La compagine toscana vedrà Ettore Liccheri, Andrea Quartini e Riccardo Ricciardi a rappresentarci, persone di esperienza, di grande esperienza e di valore e partendo da queste basi e soprattutto da un programma che è molto attento a un'agenda sociale, ambientalista e progressista siamo sicuri di poter fare anche dall'opposizione il meglio per la Toscana e per l'Italia. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione contro il caro energia che influisce su famiglie e aziende presentata dal consigliere regionale del PD Fausto Merlotti, che impegna la Giunta regionale ad attivarsi presso il governo affinché si continui a incentivare e semplificare l'installazione di impianti a fonti rinnovabili per sostenere l'autoproduzione di energia rinnovabile, fornendo regole chiare da seguire sia per le amministrazioni che per imprenditori e cittadini. Sono molto soddisfatto personalmente, come gruppo del PD lo siamo, per l'approvazione avvenuta oggi in aula della mozione che impegna la Giunta regionale a semplificare ulteriormente ad intervenire rispetto a tutte quelle norme e regionali e di carattere nazionale impegnando appunto il governo ad una semplificazione affinché le persone, i cittadini ma anche le imprese possano avere meno lacci lacciuali possibili e anche le amministrazioni comunali nel rilasciare tutte quelle attualizzazioni affinché sia possibile con celerità avere impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica di cui abbiamo tanto bisogno. Era una mozione che era qualche mese ferma in aula per la discussione e l'approvazione, io poi l'ho riproposta ora i primi di settembre ed oggi finalmente l'aula all'unanimità, questo lo voglio riconoscere, con quindi la partecipazione fattiva anche delle opposizioni ha raggiunto questo obiettivo. Riconosco anche e do atto alla Presidente Bugetti della Seconda Commissione del lavoro che il gruppo che lei ha messo in piedi in Seconda Commissione sta portando avanti ad esempio sulle comunità energetiche e noi con questa mozione impegniamo la Giunta ad attivarsi e con il nuovo governo e con tutte quelle opportunità che il PNRR offre, che il Piano Nazionale per le energie e fonti rinnovabili alternative offrono, che l'agenda 2030 offre, affinché sia possibile iniziare tutte quelle buone pratiche, continuare quelle già avviate e intraprese, affinché le imprese energivore, le famiglie, i cittadini possano ridurre la propria dipendenza energetica rispetto alla crisi che stiamo appunto vivendo con il rincaro veramente enorme delle bollette energetiche. Io penso un passo importante e concreto in favore dei cittadini toscani in primis. Il Consiglio regionale ha respinto una mozione presentata dal consigliere di Italia Viva Stefano Scaramelli, che chiedeva alla Giunta l'impegno per evitare che la riorganizzazione del servizio di guardia medica produca conseguenze incalcolabili sulla sicurezza sanitaria dei cittadini toscani e l'intasamento del pronto soccorso e del 118, come si legge nell'atto, che recepiva un emendamento apportato dalla consigliera del Movimento 5 Stelle Irene Galletti. La mozione ha ricordato come la riorganizzazione del servizio di guardia medica preveda una sospensione del servizio nella fascia oraria dalle 24 alle 8 in circa 60 postazioni della regione. E' una mozione che difende il ruolo dei medici, che ne attribuisce un significato e un valore alle professioni mediche, sanitarie e infermieristiche, che vuole difendere il volontariato della regione toscana e che vuole tutelare il lavoro dei pronti soccorso della Toscana. E' quindi un impianto, quello di riforma, che il Partito Democratico ha ipotizzato, che è uscito negli organi di stampa, in primis la Nazione ad agosto e poi a settembre ripreso da organi di stampa, riteniamo che sia un errore. Io ho posto con questa mozione un voto del Consiglio regionale perché desse un indirizzo raggiunto per fermarsi, perché è una riforma che va bloccata, che io a suo tempo avevo già bloccata, ho avuto la forza e il coraggio di farlo quando ero Presidente della Commissione Sanità e quindi per 5 anni ho fatto in modo che questo non avvenisse. Adesso si ritorna e si tira fuori dai cassetti una vecchia impostazione che lede da una parte i territori rurali, che impedisce ai cittadini toscani di avere un sistema di emergenza e di urgenza adeguato alle proprie aspettative, che mortifica il volontariato, svilisce la professione dei medici e soprattutto rischia di intasare i pronti soccorso. Andare a togliere i medici di guarda nel territorio è un errore perché sono un presidio territoriale e il Covid ci ha detto quanto sia importante. Sostituire un medico con un call center vuol dire fondamentalmente svilire la professione sanitaria e medica. Per questo non l'abbiamo contrastata. Dispiace che il Partito Democratico da solo, contro tutto il Consiglio regionale, abbia voluto difendere una riforma che a mio avviso è indifendibile. Mi pare che il tema della riforma della continuità assistenziale, della guardia medica, è una cosa che si parla da anni. Già dalla scorsa legislatura era pronta una riforma perché noi di notte ogni guardia medica risponde in media a due telefonate. Qui si tratta di strutturare intanto un obbligo europeo è corretto di strutturare un numero unico per la continuità che è il 116-117. Quindi questo comunque va fatto. Secondariamente c'è la ristrutturazione di tutto il tema delle case delle comunità. In ogni zona ci sono almeno una casa della comunità AB che è aperta H24. Quindi c'è una presenza che deve essere costruita e non ha senso mantenere una guardia medica e poi costruire una casa della comunità accanto. quindi deve essere riassorbita dalla costruzione delle case delle comunità AB. E le preoccupazioni per le aree periferiche. L'assessore quando è venuto a presentarla in commissione ha detto chiaramente che nelle aree periferiche dove c'è una lontananza da qualsiasi presidio medio viene mantenuta la presenza fisica della guardia medica. Quindi lanciare gli allarmi eccetera mi pare che sia assolutamente fuori contesto. Tra l'altro ancora non è stata messa in piedi perché c'è una fase di concertazione che la giunta sta facendo e quindi non si può che dire che è corretto sia perché i dati ci dicono che bisogna riformarlo il tema della continuità assistenziale e tutti sono sempre stati d'accordo. Sia perché la procedura che sta seguendo la giunta è una procedura di grande concertazione e di grande ascolto prima della decisione. La lettura politica non lo so, lo vedremo nei prossimi giorni ma penso però che questo sia veramente una presa di posizione dei consiglieri di Italia Viva ma che non abbia poi ripercussione di carattere generale rispetto alla maggioranza. Abbiamo discusso stamani mattina una mozione a firma Italia Viva in particolar modo del presidente Scaramelli con la quale veniva chiesto alla giunta regionale di retrocedere rispetto alla riforma della guardia medica. Una richiesta assolutamente sensata perché nel momento in cui i pronto soccorso scoppiano è evidente che se leviamo la guardia medica aumenta il carico sui pronto soccorsi perché non hanno i pazienti che stanno male la notte altro modo per essere curati che chiamare il 118. Ebbene quella richiesta è stata votata da tutte le opposizioni, da tutte le minoranze in maniera convinta, dal 5 Stelle, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia ma è stata bocciata dal Partito Democratico. Quindi la maggioranza non c'è più una mozione che non avviene su una cosa di lato, su una cosa marginale ma su un elemento centrale come la sanità e come la riforma della guardia medica. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione presentata dalla consigliera della Lega Elena Meini per impegnare la giunta a valutare l'opportunità di procedere ad una preliminare individuazione delle cave dismesse che potrebbero essere idonee a diventare bacini di accumulo per far fronte ai periodi di siccità. Auspichiamo che oltre a una mozione già precedentemente presentata su soltanto i bacini di accumulo in Toscana ci sono circa 2.400 cave, altre regioni lo hanno già fatto e anche in Toscana si chiede un censimento di queste 2.400 cave, la visione, la rivisitazione per far sì che alcune almeno di queste cave possono diventare dei veri e propri bacini di accumulo. L'emergenza idrica che abbiamo attraversato in questo periodo estivo ha messo in ginocchio moltissimi agricoltori diverse attività produttive e quello che noi ospichiamo è sicuramente che nella prossima estate questo non si ripeta più quindi abbiamo tutto un periodo diciamo tunnale invernale davanti per poter valutare queste cave come bacini di accumulo e cercare di risolvere per la prossima estate questo problema che ha travolto non solo questa regione. Grazie a tutti!